Per l'assistente segreto ci ha fatto una nuova mappa per il nascondino davvero davvero interessante Allora torniamo ad essere dei villager in una mappettina villaggetto molto molto simpatica E abbiamo alcune novità tra le armi perché se tu vedi il cercatore ha una bella spada classica classica Per ammazzare quello che si nasconde quando la trova Mentre chi si nasconde avrà una spada molto scarsa a livello di danno Ma che permette di allontanare l'altro ok per cercare di scappare anche se si viene beccati E poi dopo che ovviamente il fucile è per sparare dopo i classici tre minuti Quindi abbiamo di nuovo il timer questa volta Esatto esatto quindi rimane uguale però abbiamo questa spada in più per cercare di scappare se veniamo beccati Perché comunque non so se hai notato ma abbiamo una mappettina che secondo me è leggermente più piccola E soprattutto non ci sono troppi villager Eh ho notato Bisognerà lavorare bene eh bisognerà essere dei bravissimi villager Tutti raggruppati in gruppetti quindi sarà difficile mischiarsi tra di loro Allora dimmi un po' ti vuoi nascondere o mi vuoi cercare per iniziare Ti voglio cercare Mi vuoi cercare Sì Ok allora io vado su chi si nasconde Che poi io ho anche visto Mi prendo la spada Mi prendo la spada però guarda chi cerca aspetta qui Lo so Avrò il mio stanzino privato in cui ti posso aspettare che è anche molto carino Steph Quindi quando vuoi Allora mi dia un attimo che qua sto testando il mio fucile Prego prego signor Steph Deve essere bello carico Ok oh mamma mia Pera è cattivo sto fucile Quanto stai ricaricando 5 colpi Ok Ok non sarà per niente facile colpire Ferre comunque Perché è un fucile a cechino La scorsa volta avevamo la K era più semplice Allora Quindi Mi tolgo questo Vado a nascondermi E poi Ferre dovrà avviare il timer Ovviamente mi devo trasformare Quindi se ricordo bene si faceva Ah non mi devo neanche preoccupare di stare per forza in un muro Perché ho il mio stanzino Non vedo niente Che bello Cosa diventiamo? Questo Let's go Sei pronto? Quasi Ferre? Ok Devo anche mangiare una piccola bistecchina Perfetto D'accordo Ma direi che puoi andare dai Direi che puoi andare Allora vi ho il timer giusto? Giusto sì Start timer Eccoci qua La vedo davvero grigia Consolini La vedo davvero 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 grigia Non sarà per nulla semplice Ci sono pochi villager Tre minuti E' tosta Ferre come va? Sto guardando Sto guardando Ok Che paura Oggi villager comunque c'è da dire che sono più strani del solito Lo sai? Perché? Non lo so Di solito ti fissano Ok Questa volta vanno dritti Ma aspetta ma qui Se sei qui in mezzo non ti troverò mai Steph Perché c'è una bolla di villager gigante? Eh ho voglia Sono tutti nascosti dietro una casettina Dentro la casa del fab No dietro la torre Ok Ok Cioè se sei qui in mezzo non ti vedo mai No vabbè Ferre cerca cerca Ma anche qui ma venite dalla torre Cioè tutti quelli che abbiamo messo sono nascosti qua dietro Gli piace stare lì evidentemente che puoi Ok Ok Io continuo a camminare Chissà perché i villager si racchiudono sempre in un solo posto Non l'ho mai capita questa cosa In ogni caso un minuto su tre è passato Ferre sai Sinceramente mi stai un po' deludendo Devo essere franco con te Mi stai un pochino deludendo Perché non c'è tutta questa gente C'è uno che si comporta in modo un po' ambigua Ma uno piccolo che corre lì come un padre Sì l'ho visto quello piccolino è troppo bellino Ma non lo so se sei tu Sei tu? No No Ho fatto del male dei poveri villager Lo so Però ti ho bloccato prima che l'ammazzassi giusto? Come mi hai bloccato? Nel senso che hai detto no In modo tale che non portassi avanti No vede un colpo Se sei tu devi scappare Altrimenti lo sei tu Esatto Mi sembra logico Esatto C'è anche su mini labirinto Che è un po' È molto interessante Io potrei essere lì dentro Perché so che Ferre si perde E comunque tu hai visto quello piccolino che scappava Quindi devi essere per forza in zona Un minuto e trenta su tre No no la più pallida idea Steph Ti sei nascosto troppo Bene doveva essere un round di riscaldamento No 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 Io so che questa volta è difficile vincere nascondendosi Quindi sto partendo cattivo Per cercare di farmi il punto di vantaggio subito E cercare di concludere così Ferre Perché altrimenti sono nei guai Te lo dico Altrimenti sono davvero 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 nei guai Ah non so chi sei Sei questo Dieci secondi E manca un solo minuto Solo picchiando dei poveri villager Ho notato Ferre Ho notato che picchi gente a caso Poveretti Ma non lo so Steph Sono talmente raggruppati Che ti ripeto Anche se tu fossi lì in mezzo Probabilmente lo sei È difficilissimo trovarti Un minuto Potresti usare il tasto destro cara Cioè? Fai il tasto destro E ti propone lo scambio Quando c'è tanta tanta gente Eh vabbè Ma Steph Non ha senso Se li devo stare a controllare una a uno Prima o poi ti trovo Voglio fidarmi del mio intuito Ok Vuole fidarsi del suo intuito Sei questo Sei questo per forza Sei questo Non mi guardi Quindi sei tu Sei tu per forza Non mi stavi guardando Non è possibile però Ma sei rimasto fermo due ore Perché pensavo stessi picchiando con la fiancame No no Stavo guardando proprio a te Vieni qua Ok ok Dai Ferre Ma fai schifo Oh proprio al limite Ma fai schifo Era 150 secondi su 180 No no Io non te l'accetto eh Perché? Perché pensavo stessi attaccando con la fiancame No è perché Ho puntato a te Ma come ho dato colpo di spada Ha colpito anche quella a fianco Eh ma io stavo parlando con lui È normale che non ti guardavi in faccia Se non mi guardi in faccia è normale Ma perché parlavo con lui Non parlavo con te C'è del cibo qui intorno Steph Un po' di fame Vieni ce l'ho io Grazie Che noia che sei Allora Prenditi tutto l'armamento da chi si nasconde Ok Ok E inizia a nasconderti perché Steph è abbastanza cattivo Speravo di Questo la ributto qua Aver vinto già la partita E invece no Quindi io devo entrare qua Ferre stop anche quel timer Ah giusto scusa Me ne stavo dimenticando Sì sì complimenti Stop timer E reset pure Ok Ok ricaricati il fucile E vai a nasconderti nel ventre Puoi fare entrambe le cose in contemporanea Io sono già Come si ricarica con error giusto? Esatto Ci sta mettendo una vita A ricaricarsi Ti sto spiando Ci mette una vita Non c'era bisogno Ma come c'era? Potevi già andare a nasconderti Perché lì mi aspetta No Allora adesso Che angoscia Che Col mio tempo Adesso devo scegliere il villager che mi piace Consolini Mi voglio trasformare in questo qua Neanche 60 secondi Ma mi ha trasformato? Sì Ok Allora sto andando eh Sai che vince anche chi trova più fretta l'altro Nel caso in cui nessuno riesce a vincere nascondendosi? Perché in qualche modo dobbiamo sistemare la situazione Perché secondo me nessuno dei due riesce a stare nascosto Sì Fede tranquilla Stavo parlando Che noia Ok Manca lì nascosta Hai già fatto? Ci sono sì Sei sicura? Sì Ok Allora Io so Che Ferettina si nasconde dentro una casa Ok E che mentre lo dico Lei uscirà da quella casa Mi hai già trovato? Che sei zitta Temo di sì Sto sperando di no Però temo di sì Dai Fede Vai via Ma non puoi Ma perché mi devi seguire? Mi hai seguito Ferettina stavi correndo Non stavo correndo Ferettina stavo camminando Io sono andato qua Ho visto un villager che da qui Ok Ha fatto Pa 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 Ma ti sembra normale? Stavo camminando Ma il villager fa molti meno passi Non è vero Stanno sempre camminando Non stanno mai fermi Stef Cioè neanche il timer Non mi piace Non mi piace Non avevo avviato neanche il timer Ed effettivamente non ce l'ha bisogno Che poi io ero ancora un villager Sì Ah Quindi ancora peggio Disastri Anche tu cambiati allora Allora Io vado a nascondermi nel mentre Ferettina Tu devi cambiarti Anch'io mi devo cambiare Perché altrimenti Ferettina Saprà già Chi sono Ok Fammi vedere un pochettino Facciamo Lui Sì Sì Secondo me Ferettina Non se l'aspetta Sei andata nella zona di Chi deve cercare Sono già nella stanzina Stef Perfetto Vai puoi andare Ok Ci sono entrata per nulla Avvia il timer Star timer Ok Ok Allora io devo Ricambiarmi l'arma Perfetto Buongiorno Sì sì Salve Salve Metti tra di loro Corri anche tu Non ti vedi mai C'è troppa gente Stef Troppa folla Tu sei un po' ambigo 30 secondi Ma questi si stanno facendo I curicini tra di loro Perché stanno facendo Ma non lo so Saranno dei villager Innamorati Ferettina Anche loro si possono innamorare Lo sai Mi giro e li vedo farsi i curicini Comunque mi piace proprio Avere delle sorte di arene Così per il nascondino Di piccoli villaggi Di piccoli posti Sei questo Sei questo Ferettina Che stai a dire? Non eri quello? No Ma dai Dopo che l'ho colpito una volta Ho premuto anche il tasto destro Non mi ha aperto niente Mi dispiace Non so cosa dirti Ho fatto fuori un povero villager Ho notato Però non ero io Mi dispiace Mi dispiace Sì anche a me Se l'hai meritato però Aspetta Io ero qui fuori Entro dentro casa Ok C'è un villager con il collo spezzato Chiaramente Sì Sei tu Sei tu Dai non ne voglio uccidere un altro Steph Sei tu questo Non fai Non funziona il tasto destro Quindi sei tu Ma anche sull'altro Non ha funzionato Com'è possibile? Aiuto Aiuto E ne ho fatto fuori uno Lì fuori da casa tua Steph Proprio lì fuori Dentro casa Perché mi hai preso in pieno E cosa me l'avevi spezzato tu A me è colpito prima Ah ti ho colpito E ti sei nascosto lì No mi è colpito attraverso la casa Credo Ma com'è possibile Non lo so Io li ho scocitano fuori Ma che te ne ho di Steph stai fermo? No 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 Basta È l'unica speranza di vincere Da nascosto Steph basta Stai fermo Non riesco a Allora devo fare il giro Cavolo Steph Basta Quanto stai a correre? Sventila Sta mangiando pure Dobbiamo correre ancora per molto? Sì Allora Steph Dai ti frego Ti ho mancata Ok Io faccio fuori tutti qui in mezzo Steph non me ne frega nulla eh Sarai irresponsabile se faccio del male a tutti qua Sono morto Uffa Dai è impossibile vincere nascondendosi Però sono durato di nuovo due minuti Il che non è male No io faccio davvero 30 secondi Cioè un video è un nascondiglio Della serie come quando eravamo un piccolino Ti devi nascondere dentro qualcosa Ma non è che sei andata molto meglio cara No lì sono andata benissimo Ma quando? Però se mi dici di Dovermi camuffare in questi villager A parte che fare la parte del villager è difficile Vai a nasconderti te Cioè come fai? Tip al timer e vai a nasconderti Come fai Steph? Lo so infatti è proprio difficile da recitare Comunque Consolini iniziate anche a consigliarci Il prossimo Diciamo Essere In cui ci dobbiamo trasformare La prossima entità Ovviamente deve essere Buona Perché Non possiamo utilizzare i mostri Perché attaccherebbero Chi deve cercare Sarebbe un po' complesso Io avevo pensato i pigmen Che secondo me sarebbe stato Stradivertente Perché se sbagli ti massacrano Il problema è che poi ti rimangono stili E quindi non vanno bene Però sarebbero stati fantastici Fede non ha stoppato il timer Io lo sapevo Però vabbè Sì che l'ho stoppato L'ho premuto Vabbè premilo tu e poi farlo riavviare Non funziona Non lo so Non mi avrà preso il tasto Ci sei? Posso andare? Sì ho fatto Sicura? Sì Ok Allora Quindi vediamo se Il reset timer me lo dà No Vabbè faremo fin La start timer Parta anche mia No perché io posso premere per me stesso Non per te Capisci? Ah boh Vabbè Poi lo Ok Teniamo conto del tuo ovviamente Di quello sotto Allora Questo No Comunque i villager sono proprio persone strade Cioè ti fissano malamente quando ti avvicini a loro Sono strane sì E quindi è davvero difficile recitarsela Ti sei ritrasformato? Ah Hai ragione Giusto cara Scusi Mi scusi Non era voluto Non era voluto Ok adesso sono uno staff magnifico Perfetto Perfetto Ok Molto bene Molto bene Ok Sì Bravo staff Bravo Io ti vedo anche Eh ma io ti sto per trovare Eh sì Siamo proprio vicini staff Sì sì sei morta Sì Vicinissimi Eh si è spacciata Ah Ok Ok Quanti cavolo siete qui dietro comunque? Ma l'ho detto che sono andati tutti lì dietro È possibile Dovete smetterla Vi dovete calmare un po' Pensavo di averla trovata E invece no Pensavo di averla trovata Ok Sto strezzito perché mi viene da dire cose Quindi Ok Questo sta coltivando Non credo che sia Ferris E' stata troppo recitata come cosa Eh sì hai ragione Ok Oh siamo a 80 secondi eh Non va bene Non va bene Ferritina Mmm Mmm No Era troppo fluido Il girarsi Ok 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 90 secondi Siamo quasi a due minuti Mmm Che poi sai qual è la cosa difficile? Ok E' che quando tu ti avvicini ai villager Ti fissano Ti fissano tutti Lo so Quindi è terribile Lo so E' davvero terribile Ok E come fai? Se tutti ti stanno a fissare? No Ferritina non va bene Non va bene Siamo a due minuti di tre Eh sì Non è possibile Secondo me E' giusto che mi fai usare le armi Steph Perché sennò qui Nessuno Vede Come si possono usare Si sei girata troppo lenta Eh cavolo Si sei girata troppo lenta E' difficile Steph Ho retto per un sacco di tempo però Non mi avrai mai Non mi avrai mai Ti ho uccisa Sì Sì Perché non vedevo Oh mancavano 15 secondi In pratica ero in una casetta che poi tu hai controllato Però poi ho seguito i tuoi movimenti E andavo sempre all'opposto di dove eri tu Ok Quindi in posti che tu avevi già controllato E quindi ho detto Se li hai già controllati non ci ripasserà Ci sta Per lo meno subito Ci sta Perché ci ripassi al massimo dopo tempo E quindi facevo il giro inverso a quello che facevi tu Cioè tu dove eri già passato io andavo Capite? Mi puoi dare una mano? Che ti è successo? Che sono incastrato Eh come faccia? Muoi affogato dai Questo qua era un pozzo davvero terribile Allora dato che non siamo riusciti a provare L'arma Ok Perché nessuno è riuscito a sopravvivere per 3 minuti nascosto E dato che è difficile dire chi ha vinto 3-2 Facciamo uno scontro 1v1 con il fucile In mezzo al villaggio adesso Proprio secco E chi vince vince Ok Ok Ma torniamo noi stessi? Sì Sì Altrimenti è troppo un casino Allora fammi vedere un pochettino Io ero già me stesso Oh scusa Devo premere per forza a sinistro Quando mi trasformo e mi parte il colpo Ok il mio fucile è già carico Io inizio a muovermi Ok Dovevi stoppare il timer tecnicamente E vabbè pazienza Ma come si spara con sta roba? Lasso a destra o a sinistra? Ma è difficilissimo Lo so Pronta? Sì Via Ok Ti ho presa? No Io ti ho preso? No Mi dispiace Dovevo ricaricare Ma si ricarica ogni colpo? A quanto pare sì Boom No ma io non ho capito Perché non mi ha mirato? Headshot Perché non mi ha mirato? E ve la concludo così Dato che l'ho ammazzata Non provarci A fare Brutto maledetto Ciao fare Ora ho capito come si spara Ok Ora l'ho capito È molto strano questo fucile Cioè da dire che è diverso da quelli a cui siamo abituati Quindi era strano spararci Ok Però è bello Da un bel feeling Bello sì In ogni caso ci fermiamo così Ci speriamo che vi sia piaciuto il video Ovviamente fateci sapere appunto le prossime entità In cui ci vorreste vedere a fare un nascondino E ci vediamo in un prossimo video Yeah